In questa registrazione vi farò vedere come Mozart abbia messo i suoi numeri personali all'interno del numero delle amanti di Don Giovanni. L'opera Don Giovanni è del 1787. Nel primo atto Leporello legge a Donna Elvira, una nobile dama sedotta e abbandonata, la lista delle amanti del suo padrone e dice «Madamina, il catalogo è questo delle donne che amò il padrone mio. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1.300». La somma di questi cinque numeri è 2065, amanti. Noi dovremo riconoscere il numero che è all'origine del 2065 e il numero che ha composto la separazione di questi cinque numeri. Io ho l'abitudine di fare un timbro con quattro spazi e riempirli con quattro numeri. L'anno è il 1787. Sappiamo che Mozart è nato nel 1956, cioè nel 1756. Quando ha 31 anni, ottengo 56 più 31, 87, che è l'anno 1787. Devo agganciarlo al numero 33, che è rappresentativo dell'età di Cristo, morto a 33 anni. In questo anno Mozart è già iscritto alla massoneria insieme al librettista Lorenzo da Ponte, ma questo non è un sistema che usano solo i massoni. È usato prima della massoneria ed è usato ancora oggi. Prendo il numero 87. Abbiamo visto che è composto dall'anno di nascita di Mozart e dalla sua età. Al 56 sottraggo l'età di Cristo, 33, ed ottengo il numero 23. Questa è la chiave di tutto il gioco. Il numero 23 sarà il numero nascosto. Le amanti sono 2065, la somma di questi cinque numeri, e vediamo come è stata composta. Prendo un numero 33, lo porto all'esterno, prendo il numero 31, lo porto all'esterno. Adesso moltiplico il numero 87 per la chiave 23, ed ho 87 per 23, 2001, più 33 e 31, ottengo il numero 2065. Questo è il numero di partenza per arrivare al numero 2065. Ora dobbiamo riconoscere il numero che sta alla base della separazione di questi cinque numeri. Parto col più semplice, che è il 1003, le amanti della Spagna, e ho l'età di Cristo per 21 volte e l'età di Mozart per 10 volte, totale 31, e ho capito che devo trovare adesso il 31 anche dall'altra parte. Quindi troverò 640 le amanti in Italia, Cristo per 10 e Mozart per 10, 231 le amanti in Germania diviso 7 ho 33, quindi Cristo. La Francia mi dà l'età di Mozart con 3 volte la chiave 23, ma la Turchia non mi dà niente. Abbasso il 23 ed ottengo 3 volte 56 l'anno di nascita di Mozart. E quindi io, se qui avevo i moduli sotto, la somma era 31, adesso mi trovo la somma sotto che è 10, 20, 27, 28, 29, 30, 31. Quindi ho la conferma che siamo partiti dall'87 per avere il 2065 e la separazione dei 5 gruppi è ottenuta con il numero 31 e 31.